Big Jump 2013 L'associazione Ciosotti della Neve ha portato per la prima volta a Sottomarina il mondo dello snowboard con una due giorni divertente ed emozionante. L'evento ha avuto anche una parte agonistica, con a protagonisti una trentina di atleti che si sono sfidati con salti d'acrobazie notevoli. Il vincitore assoluto della gara è stato Matteo Andreose, del Miami Style Crew che è riuscito nella serie dei tre salti ad ottenere il punteggio più elevato. Oltre agli atleti in gara, si sono esibiti sulla rampa allestita in piazzale Europa Sottomarina anche gli atleti della team Nordica Freestyle Ski. Sul palco centrale, sia il sabato che la domenica, esibizioni di ballo. L'evento è stato trasmesso in diretta in tutto il Veneto su Radio Osterocittà che con la sua musica e i suoi animatori ha accompagnato il numeroso pubblico presente in piazzale Europa. Visto il grande successo dell'evento, il team dei Ciosotti della Neve ha già manifestato il desiderio di riproporre la manifestazione anche il prossimo anno con una formula ancora più ricca e coinvolgente.